A Castel San Giuliano, nei pressi di Bracciano, c'è il Palazzo Patrizzi, nel sito di un insediamento etrusco e romano, con resti di tombi e ruderi che affiorano tra la fitta macchia e i cespugli fioriti. La proprietà, dal Cinquecento dei Marchesi Patrizzi, è dominata dal severo palazzo e comprende un parco. La maggiore attrattiva è il roseto, che esplode nei colori e profumi di numerose varietà, con rose antiche che si arrampicano sulle mura della chiesetta secentesca dedicata a San Filippo Neri, e arbusti mescolati ai mirti e agli azzurri ceanotus. Cespugli di erbe aromatiche sono sovrastati da maestrosi pini e cedi del Libano, che si stagliano sullo sfondo dei monti della Tolfa.